buona giornata amici da massimo foghetti oggi è sabato 22 gennaio 2022 ebbene oggi il sole sorge alle 7.33 tramontale 17.05 il santo di oggi è san vincenzo di saragozza lo vediamo qui sulla grafica e vediamo che questo santo subì un martirio peggiore di quello che subì e vi ricordate sant'agnese nella giornata di ieri una martire che fu penalizzata enormemente per quanto riguarda le che dovette subire ebbene san vincenzo di saragozza ne subì di peggiori fu martirizzato sotto gli imperatori di ocleziano e massimiano prima fu torturato con lo stiramento delle membra poi fu flagellato fino a scoprirgli le ossa dicono le cronache poi fu mandato a rogo ma le fiamme non fecero che non lo convinsero a rinunciare alla sua fede e fu di nuovo incarcerato e disteso su cocci appuntiti lo stesso carceriere di fronte a tanti tormenti si convertì e alla fine san vincenzo fu vincenzo fu disteso su un letto di piume e lì morì appunto dolcemente dopo aver sofferto tanto tanto diamo un'occhiata ora alle notizie del tempo vediamo le previsioni meteorologiche e vediamo che il tempo si mantiene ancora sulle alte pressioni vediamo il sole in tutte le regioni tanto sole ma con estese gelate a tutte le quote qualche foschia nel fondo valle e poi abbiamo anche delle foschie interne negli appennini massime in aumento però le temperature minime sono in calo quindi c'è forte escursione termica tra le minime e le massime cominciamo oggi con il corriere adriatico per le notizie del giorno a partire dalla pagina di fano sulla pagina del corriere si evidenzia il nuovo parco che dovrà sorgere a sant'orso lo ha illustrato ieri il sindaco massimo seri e l'assessore all'arredo della città barbara brunori sant'orso a misura di bambino la rinascita comincia dai parchi il sindaco il progetto è di creare luoghi in cui farli sentire liberi con tutte le condizioni di sicurezza ebbene il progetto di sant'orso è un prototipo che dovrà essere poi replicato in diversi quartieri della città si comincia a sant'orso da tempo sant'orso è considerato un po il quartiere dei bambini perché lì sono state sperimentate diverse soluzioni intorno alla sicurezza e far sì che essi possano giocare in libertà ebbene il parco di sant'orso si distingue per l'illuminazione che verrà curata in modo particolare per cinque aree giochi e soprattutto per l'estensione del tappeto antitrauma che non si limiterà soltanto ai giochi che verranno installati ma sarà esteso su tutta la superficie il che lo renderà più inclusivo e poi il corriere adriatico evidenzia le notizie per quanto riguarda le proteste sui parcheggi sono appena cessate ma ancora continuano i malumori su via Negussanti per le trasformazioni in atto che ora si riaccendono le proteste per i parcheggi di via Dante Alighieri dove i parcheggi a spina di pesce sono stati sostituiti dai parcheggi perpendicolari e paralleli alla strada alla careggiata ovviamente con un taglio del numero degli stalli che erano a disposizione la maggioranza ci riprova ma su Aset non c'è accordo ancora problemi ancora diversità di vedute sulla sorte della partecipata fanese restano due blocchi distinti all'interno della maggioranza e sono inconciliabili lo scontro rinviato e non risolto insomma abbiamo due posizioni contrapposte c'è chi vorrebbe intavolare un dialogo con marche multiservizi in previsione non tanto per il digestore che ormai sembra avviato per la sua strada ma per prepararsi per le future gare per la concessione dei servizi e sono servizi importanti come l'erogazione del gas come la questione idrica come la questione dei rifiuti e intanto si preannuncia il primo consiglio comunale dell'anno il primo consiglio convocato per il 27 gennaio dove non ci sono però tanti punti all'ordine del giorno ma sarà un consiglio importante perché lì forse si sfogheranno tutte le diverse posizioni non solo tra maggioranza e opposizione ma anche all'interno della maggioranza ma prima del 27 gennaio si terrà una seduta particolare quella dedicata al giorno del memoria in programma martedì prossimo sono entrambe le sedute che verranno organizzate online insomma ci si rinuncia al consiglio in presenza come era stato fatto nelle precedenti sedute nella sala ipogea del memo e passiamo a Fossombrone la strada impercorribile è sempre più pericolosa qual è questa strada impercorribile? è quella di San Pietro in Tambis dove 100 metri sono stati asfaltati e il resto è rimasto ammalorato la strada per San Pietro in Tambis a Fossombrone impercorribile è sempre più pericolosa definirla ammalorata dice il Corriere è un eufemismo è abbandonata a se stessa da anni senza un minimo di attenzione nonostante continue segnalazioni nell'arco di non si sa più di quanti anni insomma appelli sono giunti inascoltati e chissà che quest'articolo non smuova qualche sensibilità a Mondolfo invece è stata potenziata la videosorveglianza questa è una notizia che rimbalza da qualche giorno sui giornali sono in arrivo nuove telecamere sono nuove spy cam e di queste cinque saranno installate in centro a Mondolfo ha sempre in tre comuni più di 900 persone sono in isolamento tra Mondolfo, San Costanzo e Monteporzio è un vero picco di quarantene più di 900 persone in isolamento a causa della pandemia in questi tre comuni sono questi numeri che si riferiscono ad un aumento considerevole del numero dei contagiati e di persone da mettere in quarantena per diminuire i rischi di contagio da Covid-19 quindi un allarme per quanto riguarda questi tre territori dell'entroterra e poi vediamo la pagina pesarese dove si parla dei lavori dell'ex tribunale quello di via San Francesco ex tribunale lavori fermi da tre anni voglia di ripartenza ma prima il comune dovrà revisionare e riadattare il vecchio progetto l'investimento finale dovrebbe essere di 3 milioni e 600 mila euro e il giornale evidenzia quali saranno i prossimi gradini i prossimi step per realizzare le prossime fasi per realizzare questo recupero dell'edificio importante e lo vediamo qui nella fotografia poi in questa tabella viene riassunta anche l'impasse che hanno subito i lavori per il restauro dell'ex palazzo di via giustizia di giustizia di via San Francesco a suo tempo sono stati stanziati 2 milioni e 300 mila euro la consegna dei lavori era venuta il 25 ottobre delle 2018 avrebbero dovuto essere conclusi questi lavori in un anno così non è stato ad aprile del 2019 l'impresa paltatrice di Napoli aveva abbandonato il cantiere bloccando l'intervento e così è nato il contenzioso con il comune ora i lavori e non sono ancora ripresi però si preme perché appunto l'intervento giunga a conclusione le attività in una bolla è peggio del lockdown non c'è giorno che i giornali non riportino le difficoltà delle famiglie ma anche delle aziende dei negozi per il caro bollette il caro bollette è diventato veramente uno tsunami che sta così pesando enormemente diciamo così ma questo è solo un eufemismo sulla conduzione di famiglie di negozi di imprese i rincari di pane o caffè per la confcommercio sono solo la punta di un iceberg il paso dice da una parte gli aumenti e dall'altra i clienti che non ci sono quasi più la gente ormai non circola si calcola che nel primo trimestre del 2022 l'aumento medio per le famiglie sarà di 370 euro per gas luce e acqua ma va ancora molto peggio per chi gestisce un'attività abbiamo visto anche nei giorni precedenti come le bollette della luce siano schizzate del gas siano schizzate veramente verso l'alto chi paga 2-3 mila per quanto riguarda i bar gli esercizi 2-3 mila euro in più e questo con un calo di clienti si fa ancora più sentire diventa più penalizzante bimbi e tamponi e dad famiglie discriminate si mobilitano gruppi di mamme che hanno i figli iscritti alle scuole primarie contestano regole troppo faragginose e burocratiche e troppe insomma troppa burocrazia ma anche i costi dei test che sono sempre a carico delle famiglie abbiamo scelto di vaccinare i nostri figli nell'ottica di proteggere loro e la comunità hanno detto le mamme per un bambino la dad non potrà mai essere un'alternativa porta solo alla alienazione sì perché i bambini hanno bisogno di un contatto con i loro compagni possono con loro parlare dialogare giocare e essere chiusi in casa magari davanti a un computer è completamente alienante e di qui appunto un appello perché la dad venga scongiurata il più possibile ti remolla sul super distributore e alla fine l'ANAS boccia il progetto si tratta di un distributore che era stato richiesto per la Montelabattese un impianto di metano da potenziare ma la società dà la priorità alla sicurezza stradale ebbene una attività poi la vediamo anche sul resto del Carlino che è stata al momento stoppata appunto sulla Montelabattese che ricordiamo è una strada non poco pericolosa e in questa pagina del Corriere abbiamo invece un intervento di politica si tratta della nuova squadra del Partito Democratico che viene così annunciata dal segretario Giampiero Bellucci spazio agli under 35 e ai circoli afferma Bellucci restano i senior perugini nobili e gambini e l'esecutivo comunale del partito cambia per tre quarti il neosegretario ha annunciato 13 componenti e rinnovato per tre quarti l'esecutivo con Timoteo Tiberi presidente dell'Assemblea e qui vediamo appunto Timoteo Timoteo Tiberi presidente laureato in scienze storiche 28 anni giovane anagraficamente ma di lungo corso era candidato alla segreteria comunale in realtà è diventato presidente e poi abbiamo qui due giovani Simone Cangiotti lo studente e Alberto Antonelli l'informatico due anni di pandemia hanno zerato la partecipazione ha detto Bellucci alla politica però insomma ora si tenta di ricostruire un assetto funzionale strutturato appunto del partito aspetta il denaro della vendita online ma il compratore gli presciuga il conto sempre più denunce per truffe e raggiri attraverso la rete e i casi finiscono davanti al giudice attenzione mi raccomando non cadete mai nelle trappole dove ci sono offerte allettanti tramite computer tramite il web a Vallefoglia per il nuovo municipio unico un crono programma rispettato Ucchielli e la sua giunta in visita all'area adesso siamo alle fasi conclusive e qui vediamo appunto il sindaco con i suoi assessori in visita all'area del municipio unico ancora a Urbino per sette anni l'istituto Mattei un riferimento dei piani Erasmus sarà il capofila questo istituto della provincia gestendo studi all'estero per studenti e insegnanti e la pandemia non sopisce la volontà di conoscere di varcare le frontiere di viaggiare dei giovani per istruirsi sempre di più conoscere le lingue conoscere usi e costumi di altre realtà a questo punto vediamo nuovi tagli di alberi maestosi sinistra per Urbino insorge l'ultima notizia che evidenzio dal Corriere Adriatico ora passiamo al resto del Carlino sulla pagina di Fano e vediamo come si evidenzia un grido d'allarme sul giornale per quanto riguarda gli accertamenti dell'Atari gli accertamenti dell'Atari che sono dovuti per quanto riguarda la repressione dell'evasione però ovviamente ci sono tempi e modi e questi veramente non sono i tempi opportuni per fare certi accertamenti insomma la gente è intenzionata è occupata a combattere il covid a combattere il caro vita e se gli arriva addosso una briscola per quanto riguarda l'accertamento della Tari e deve pagare grosse multe veramente va a fondo Tari il comune rifà i conti e ora batte cassa la richiesta di arretrati si basa su un diverso calcolo delle superfici dell'abitazione le file di chi protesta e la concessionaria deve aver incrociato i dati sull'ampiezza degli immobili per quanto riguarda una serie di richieste di bollette che giungono oltre a quelle usuali di tutti i giorni a Sant'Orso arriva il parco delle meraviglie il sindaco Seri ha spiegato ieri come verrà realizzato un punto di ritrovo per bambini e adolescenti dove un tempo vi era solo paura e sì perché ricordiamo che Sant'Orso fino a poco tempo fa era uno dei quartieri più diciamo così più particolari insomma più 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 disastrati dal punto di vista dell'ordine pubblico della città ora invece è diventato non dico un quartiere modello ma un quartiere che ha risolato che ha risalito di molto la china e l'abbiamo visto nell'ultima nell'ultima festa di Halloween dove tutto si è svolto con grande correttezza ASET maggioranza in libera uscita sulle digestore anche sul resto del carlino si evidenziano le differenze di posizione tra l'assessore Mascarin e il sindaco Massimo Seri mentre sulla Fano Grosseto continua la battaglia per le quattro corsie l'assessore regionale Francesco Baldelli mercoledì avrà un incontro al Ministero dove al Ministero ancora si persegue il progetto a due corsie mentre a due corsie il progetto viene completamente rifiutato dalle comunità locali perché la continuazione della Fano Grosseto deve essere appunto in linea con quello che è stato realizzato quattro corsie appunto in precedenza noi puntiamo ad un futuro green per i mezzi di trasporto un articolo che riguarda ancora la sorte dell'ex zuccherificio che in questi giorni è risalita alla ribalta si vuole realizzare una cittadella all'idrogeno parla Marini della società idrogen gli industriali di Fano suggeriscono di farla nell'area attorno piuttosto che l'ex zuccherificio però insomma la possibilità di risollevare quest'area degradata rimasta all'abbandono per tanti anni potrebbe essere una soluzione per riqualificare e spostare anche il traffico dalla città elettrolizzatori una macchina che serve per creare idrogeno è quello che produce questa nuova idrogen una società che in questo momento dunque vediamo un po' si tratta di un idrogen che ha lasciato Fano per spostarsi a Tavuglia dove i capannoni costano meno questa società è il motore green di un progetto che vede attorno alcuni colossi tutti nati attorno alla Snam e alla Saipen quindi una cosa seria una cosa importante dal punto di vista imprenditoriale oggi i vaccini a Dorciano e Pergola questa mattina al centro salute Carlo Amodio e all'ospedale Santi con la presenza di medici che stamattina in Valcesano funzioneranno due punti vaccinali covid di prossimità quello di Orciano allestito al centro salute Carlo Amodio di via Fornace e quello di Pergola all'interno dell'ospedale Santi Carlo e Donnino a Orciano l'orario è dalle 9 alle 12 mentre nella città di Bronzi a Pergola dalle 8 e 30 alle 11 e 30 prendete note appunto di questi appunti sulla pagina di Urbino si sappia che per la politica il 118 non esiste lo afferma il dottore Giovanni Papi Renzetti un'analisi durissima da parte appunto di questo volontario responsabile regionale Marche del sindacato degli operatori per l'emergenza ebbene si sappia c'è una fuga verso altre regioni da parte dei medici pensate su 10 su 36 scusate ci sono circa 10 medici su 36 rimasti che meditano di lasciare il servizio 118 in un organico dove ne mancano già una decina c'è una fuga proprio da questo settore negli ultimi mesi inoltre sono rimasti scoperti 50 60 turni ogni mese con ambulanze che viaggiano senza medico a bordo le cifre sono queste solo perché quasi tutti i colleghi fanno straordinari e se ognuno facesse solo il suo monte ore sarebbero molti di più l'impietuosa analisi di Giovanni Papi Renzetti che è responsabile regionale del sindacato medici italiani dell'emergenza 118 ITIS capofila di un progetto Erasmus europeo l'istituto Enrico Mattei di Urbino ha confronto con scuole di Francia Spagna e Turchia per studiare i suoni della quotidianità e poi vediamo in previsione del giorno della memoria questa interessantissima pagina di Cagli firmata da Mario Carnali Cagli non dimenticherà mai Don Celli arrestato nel 1944 morì a Mauthausen e qui vediamo il suo arresto in una vignetta che è stata redatta da John Betty la ricostruzione dell'arresto di Don Giuseppe Celli il 21 gennaio del 1944 e la città non dimentica questa storia non solo quella antichissima quella del periodo in cui era una comunità che cresceva sempre e di fatto dominava un ampio territorio anche culturalmente persino industrialmente ma Cagli non dimentica i fatti dell'ultima guerra insomma i fatti che hanno richiesto un sacrificio importante e appunto quello di Doncelli rimane indimenticato a Senigallia c'è una famiglia che è stata invasa che è stata intaccata dal monossido una famiglia intossicata a dare l'allarme è stato il papà che ha chiamato i vigili del fuoco subito evacuati i genitori trasferiti a Torrette e i tre figli nella camera iperbarica di Fano si è sfiorata veramente la tragedia in via Mercantini dove un'intera famiglia è in ospedale per una fuga di monossido di carbonio era successo ieri sera alle 23 e 30 quando i vigili del fuoco sono intervenuti dove una coppia con tre bambini avvertiva forti e cattivi odori all'interno del loro appartamento e dalle analisi compiute dai pompieri è stato accertato che all'interno era presente nell'aria il monossido di carbonio che stava intossicando i residenti per fortuna il rapido intervento il rapido soccorso ha consentito appunto a tutti i componenti di questa famiglia di ricevere i dovuti soccorsi e quindi di salvare la vita e poi vediamo qui che a Senigallia il lupo drago è stato ucciso da lacci di ferro un ottantenne accusato per la morte era un lupo che veniva appunto chiamato drago perché era stato scelto per avere per portare una radio collare per monitorare gli spostamenti appunto suoi e anche magari di qualche suo compagno di caccia oppure sai i lupi vivono un po' in branco ebbene questo cane è stato accertato questo lupo è stato accertato che è rimasto intrappolato in un laccio formato da una catena di un cavo d'acciaio posizionato in una scarpata sul posto è arrivato un esperto dell'associazione Foxes di Fano sono arrivati anche gli uomini del CRAS ovvero del centro recupero animali selvatici sono arrivati anche i carabinieri forestali della stazione di Iesi che hanno constatato come l'esemplale era morto da diverse ore appunto per la stretta mortale per questo laccio che gli si è stretto attorno al collo vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro sul resto del Carlino si parla della DAD classi in DAD è prof positivo la scuola arranca tutti sopportano le conseguenze di questa pandemia e poi abbiamo ancora una vittima illustre del covid ovvero il vicepresidente della regione Marche Mirko Carloni il quale ha fatto tre vaccini si è vaccinato proprio nei giorni scorsi per la terza volta aveva avuto il covid tempo fa a marzo nel 2020 uno dei primi a essere contagiato appunto dal virus ebbene è stato contagiato una seconda volta Carloni contagiato per la seconda volta curato nel nuovo ambulatorio è una svolta ha dichiarato l'assessore di nuovo alle prese con il covid decisive per me le terapie precoci a San Salvatore un servizio che funziona ebbene è stato il remdesivir il medicinale che sta appunto curando molto molto precocemente questa situazione per Carloni e nella regione Marche in arrivo anche il vaccino proteico per ora niente zona arancione e continuiamo con il giallo lo dice appunto il presidente Acquaroli ospedale di comunità grazie al PNRR ci sono Cagli e la sorpresa Galantara si parla qui della bozza dell'assessore regionale alla sanità a Saltamartini che prevede in regione 42 milioni di investimenti anche per 29 case della salute e altri 3 e mezzo milioni di euro per la nuova sede del Bricciotti a Monbaroccio antincendio a Fossombrone dobbiamo pensare anche ai trasferimenti dei reparti per poter realizzare il nuovo ospedale a Muraglia ha detto Saltamartini e poi qui vediamo il distributore della Montelabattese stoppato dall'ANAS il motivo lì non si può svoltare a sinistra hanno dichiarato i tecnici e poi vediamo posti barca feste e sport e canone alle stelle il consigliere regionale Biancani la tassa demaniale aumenta di 7 volte non bastano gli aumenti delle altre cose anche la tassa demaniale chi fa iniziative in spiaggia pagherà non 350 ma 2500 euro e siamo in conclusione essendo il weekend vi do anche qualche notizia di sport vediamo la vis che incontra il teramo vis gara scivolosa dopo un mese in apnea oggi al Benelli torna il campionato ore 14.30 contro un teramo rafforzato e dopo un lungo periodo senza partite sono pronti i nuovi acquisti mentre il Fano Calcio è ancora in riposo ed è sulle tracce di un centrocampista di serie C la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l'arrivo di un calciatore over di qualità oltre che per la firma degli under questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 e vi augura una buona giornata e un buon weekend a risentirci grazie a tutti